Ha preso il via questa mattina presso la caserma Boscariello a Scampia il cantiere per la realizzazione di un centro sportivo polivalente. Sarà un presidio di legalità aperto alla comunità locale e nell'ambito del progetto Scampia l'iniziativa rientra nel più ampio intervento di rivalutazione dell'area che comprende anche la realizzazione del nuovo polo della pulizia di Stato. Presenti tra gli altri il ministro per lo sport Luca Lotti e l'assessore allo sport del comune Ciro Borriello. Un segnale importante da parte dello Stato, lo avevamo detto qualche mese fa durante i mille giorni del governo Renzi, era un impegno che ci eravamo presi, oggi è un bel giorno, si dà il via ai lavori di un impianto importante sportivo e non solo, è la risposta che dà lo Stato nelle nostre periferie, per riportare le nostre periferie al centro. Può sembrare un gioco di parole ma non è così. Oggi però inizia un percorso, è un punto di partenza, non deve essere considerato un punto di arrivo perché dovremo lavorare seriamente tutti insieme in un gioco di squadra con tutte le amministrazioni coinvolte perché finalmente poi si veda la fine di questi lavori e si vedano i risultati di un lavoro che viene lungo il tempo al di là delle amministrazioni e tutti insieme dobbiamo realizzare. I lavori alla caserma sono frutto di un'assoluta sinergia tra il governo e gli enti locali. Questo è un bel esempio di come dovrebbero essere fatte le cose, recuperare questo spazio alla legalità, questo spazio allo sport e dedicare una zona della città difficile è un obiettivo importante di questa amministrazione. È chiaro che poi anche questo stesso spazio darà ospitalità a un'emergenza che stiamo vivendo in città. Sono passati un po' di giorni, diverse settimane, non abbiamo avuto segnali concreti dal governo, dovremmo assolutamente essere più efficaci appunto nell'azione di governo perché siamo in una fase difficile, ancora non siamo usciti da questa emergenza e quindi siamo fiduciosi soprattutto per quella iniziativa che avevano promesso e che per il momento non arriva. Come da accordi tra Comune di Napoli e Ministero della Difesa, l'area sinistra della caserma sarà presto destinata alla realizzazione di un campo attrezzato per l'accoglienza temporanea della popolazione rom di Scampia. Sulla questione è intervenuto il direttore generale del Comune Attilio Auricchio. L'autorizzazione del Ministro è pervenuta nella giornata di ieri, ora ci aspettiamo soltanto di regolamentare dal punto di vista tecnico la cessione fisica dell'area e poi noi come amministrazione comunale siamo già pronti da tempo a realizzare gli interventi che sono stati previsti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.